Vivi le opportunità del PSR Marche. Il PSR Marche per il 2021-2022. Ascoltiamo il territorio, condividiamo il programma. Un ciclo di incontri per la raccolta delle istanze, per l'agricoltura e lo sviluppo rurale della regione. Cinque incontri, uno per provincia, saranno finalizzati alla raccolta e all'analisi delle istanze provenienti dalle diverse aree che compongono la regione, ognuna con vocazioni e caratteristiche specifiche. Gli incontri saranno fruibili in presenza e online, in diretta sui canali Facebook e YouTube del PSR Marche. Martedì 23 febbraio alle ore 18 presso l'hotel Federico II a Iesi. Mercoledì 24 febbraio alle ore 18 presso il Teatro Comunale alla Leona, a Monte Giorgio. Lunedì 1 marzo alle ore 18 a Lanciano Forum di Casterra in Mondo. Mercoledì 3 marzo alle ore 18 presso la Cantina Sociale Valdaso a Montalto delle Marche. Giovedì 4 marzo alle ore 18 presso il Convento del Beato Sante a Monbaroccio.